Buongiorno, le maggioranze si formano in Parlamento. Questa è la frase della settimana, anzi del mese. È la frase della crisi di governo che stiamo vivendo. Gli editorialisti, i politici dei 5 Stelle, i politici del PD, gli editorialisti dei 5 Stelle, gli editorialisti del PD ci ripetono ogni giorno, quotidianamente, con aria ispirata, come se si stessero rivelando chissà che cosa, qualcosa che il mondo ignora e che solo loro conoscono. Ci dicono appunto che la maggioranza si forma in Parlamento. Sì, ma non rispecchia la volontà popolare, la maggioranza si forma in Parlamento. Sì, ma sono due partiti perdenti che si stanno unendo. Sì, ma le maggioranze si formano in Parlamento. E se non sei d'accordo ricomincia la tiritera fascista, fascista, eccetera, eccetera. Bene, le maggioranze si formano in Parlamento. Effettivamente è così. Però, andiamo a vedere cosa significa questa frase. Andiamo a vedere che significato le attribuivano coloro i quali l'hanno scritta, cioè i padri costituenti. Andiamo ad esempio a prendere i dibattiti sull'articolo 94 della Costituzione. Dibattiti che sono stenografati, trascritti anche per intero. Si trovano molto facilmente sul web. Ognuno si può fare la sua idea. Io vi leggo quale fu il dibattito tra Costantino Mortati, costituzionalista della democrazia cristiana, e Luigi Inaudi, che di lì a qualche giorno, siamo nel 9 gennaio 1947, sarebbe entrato nel gruppo dei liberali. Bene, andiamo a leggere. Allora, secondo Mortati, la discussione è su fiducia e sfiducia all'esecutivo. Secondo Mortati sono indispensabili alcune regole per blindare il governo, cioè per evitare che il governo cada ad ogni manovra di palazzo. Che non è questo il caso, visto che è stata una componente della maggioranza a sfiduciare Conte. Ma in questo momento questo non ci interessa, come nasca la crisi. Il problema è un altro. Secondo Inaudi, meglio non mettere regole. A questo punto interviene di nuovo Mortati, e questo è il resoconto stenografico del suo intervento principale. Risponde, Mortati, all'onorevole Inaudi, che vi sono due forme di instabilità. Una è quella la quale egli, cioè Inaudi, ha accennato che deriva dal mutamento dello spirito pubblico e dalla modificazione della situazione politica del Paese. Su questa, evidentemente, non ve niente da fare. È stata prevista l'esistenza di un capo dello Stato che ha la funzione peculiare di accertare quando questi mutamenti dello spirito pubblico si verifichino e, appunto, al suo intervento, è affidato il mutamento del governo e comunque le decisioni che devono servire a mantenere omogeneo lo spirito pubblico con l'azione di governo. Poi, prosegue, riassumo brevemente, ci sono le crisi provocate dalle manovre di partiti che non sono invece manovre sentite nel Paese, anzi sono osteggiate dal Paese. Mortati dice Inaudi che le norme che lui vuole inserire per proteggere, per blindare il governo riguarderebbero solo questo secondo caso. Inaudi replica che le manovre di Palazzo ci sono sempre state, le regole c'erano ancora prima del fascismo, non servivano a niente, inutile metterle. Ma da questo capite che il disaccordo non è sul ruolo del capo dello Stato e sulla necessità che vi sia omogeneità tra governo e spirito del popolo che tocca al Presidente interpretare. Proseguiamo. Il democristiano Mortati, poi, che era un grande costituzionalista, ha avuto un'influenza decisiva nello stendere la Costituzione. Nel 1958 torna sul tema in un suo manuale, che sono le istituzioni di diritto pubblico, che Nicola Porro ha giustamente citato qualche giorno fa in un messaggio, e cosa dice Mortati? La citazione è un po' lunga, ma merita davvero. Sembra più consono all'indole di governo parlamentare considerare la presunzione di concordanza fra corpo elettorale e parlamentare non assoluta, ma relativa, subordinata, cioè alla possibilità di un accertamento in ogni momento della sua reale fondatezza. Cioè può darsi che ci siano dei parlamenti che non rispecchiano più per niente quello che loro definiscono lo spirito del popolo, che poi è, diciamo, l'orientamento politico del popolo. E poiché ciò è ottenibile, cioè l'accertamento, attraverso la consultazione del corpo elettorale da effettuare con lo scioglimento anticipato delle Camere o con il referendum, occorre affidare a un organo indipendente dal Parlamento un compito siffatto, diretto alla constatazione di eventuali disarmonie fra corpo elettorale e Parlamento. Quale organo? L'abbiamo già capito. È il capo dello Stato stesso che deve sovrintendere all'attività degli altri organi costituzionali, senza però orientarli in un senso o nell'altro. bensì il capo dello Stato deve segnalare le eventuali gravi disarmonie che potessero rilevarci rispetto al sentimento o alle esigenze espresse dal popolo o per effettuare un appello al popolo stesso attraverso l'impiego dell'istituto dello scioglimento anticipato quando vi siano elementi tali da renderlo necessario o anche solo opportuno. Allora, scusate se ho alzato la voce per sottolineare le parti più importanti. Mi pare chiaro, però è la mia opinione, per stare dalla parte della democrazia liberale evidentemente non è sufficiente riempirsi la bocca della frase che è la risoluzione di tutti i problemi. Le maggioranze si formano in Parlamento. Di sicuro, credo, sempre parlo per me, di sicuro i padri costituenti non avevano davanti, non immaginavano uno scempio come quello a cui stiamo assistendo in questi giorni in cui due partiti perdenti, perché il PD ha perso le elezioni, i 5 Stelle hanno perso tutte le votazioni successive alle politiche, entrambi i partiti hanno interesse a non andare a votare per non vedersi spazzati via, questi due partiti di perdenti che pure hanno la maggioranza parlamentare si stanno unendo per formare un governo che non rappresenta nessuno o rappresenta comunque una percentuale minoritaria nel Paese. Non è così? Andiamo a vedere, verifichiamo. Come dicono loro, qualora ci sia il dubbio che il Parlamento, quindi di conseguenza l'esecutivo, non rispecchi la volontà popolare o comunque lo spirito del popolo, si vada a consultare il popolo? Ritengono di essere una vera maggioranza politica? Si sottopongano al voto degli elettori e vediamo se lo sono.